La scritta Hollywood sulle colline di Los Angeles, entrata nella storia del cinema, rischia di essere smontata perché non si sono trovati 25 milioni di dollari per salvare i terreni sui quali è costruita. Public Trust Forlensky, organizzazione no profit del posto, sta amministrando una raccolta fondi che però ferma a 11 milioni. Ancora Cinecomics, stavolta tocca Lanterna Verde, supereroe e protagonista dell'omonimo fumetto della DC Comics. Green Lantern sarà diretto da Martin Campbell, anche se la produzione DC Comics Cinema, Legendary Picture e Warner Bros. Picture stanno ancora lavorando sul cast. In lista ci sono Mark Strong e Jackie O'Reilly, confermati per il momento soltanto Raya Reynolds, Blake Lovely e Tim Robbins. La Walt Disney sta per rilasciare il suo nuovo lungometraggio, Maga Martina e Libro Magico del Draghetto. Il film è tratto dal popolare romanzo per bambini, Dean Neister, autore che ha venduto oltre 10 milioni di copie al mondo con questa opera. In uscita nelle nostre sale è già pronto il sequel, previsto per il 2011. E questo è tutto, vi lascio con il trailer di oggi. La quinta è aperta all'inizio, posso mettere il paio? Quando ti scegliere a un paio? Si, abbiamo un problema? Abbiamo un problema? Abbiamo un problema. Quando ti siete un peccato con il killer... Lo so scatere! ...ché non te sapere! ...osa cosa hai? Che ti scem ci scegliere? Bomba! Mi sono un peccato! Cosa ti sa? I have to get his gun There's no telling Are you Smith? I can't tell you That's the wrong answer Who's getting out alive? There's one of you, Smith Why don't you decide for me? Neither Are you Smith? No! You're just at the wrong place in the wrong time basically Michael Madsen Amber Benson Harold Perrineau The Killing Jar Per oggi è tutto Arrivederci alla prossima puntata di Anteprima Cinema Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.